Ancora problemi per il castello di Mirabello, monumento simbolo della battaglia di Pavia. Nei giorni scorsi è crollato un tratto del muro di Cinta, lungo la strada che attraversa il quartiere. Si tratta dell'ultimo episodio, in ordine temporale, che solleva ancora una volta il tema della pessima gestione dell'antico castello, lasciato all'abbandono e al degrado. Purtroppo lo stato di abbandono in cui verse il castello da troppo tempo poi si vede quando capitano queste cose. Il muro di Cinta, ne è venuto giù un pezzo, è un muro che non appartiene all'epoca del castello, è un muro settecentesco ma comunque ha un valore storico ed è comunque, come dicevo, l'indice dello stato di abbandono in cui viene lasciato questo importante monumento. Come sempre le amministrazioni che si succedono a Pavia nei confronti del castello di Mirabello hanno un'attenzione secondo noi sempre relativa. Promesse sono state fatte, nel mese prossimo probabilmente cominceranno finalmente i lavori per ripristinare il tetto dell'arla orientale ma noi crediamo come comitato della battaglia di Pavia che l'attenzione debba essere molto maggiore con l'attenzione riservata al castello di Mirabello. Il tetto ceduto ulteriormente, come dicevo, speriamo che comincino presto i lavori per la sua sistemazione, i soldi ci sono, c'è anche il permesso della sovrintendenza quindi spero che si ricominci presto a lavorarci. Associazioni e volontari che si occupano di tenere alta l'attenzione sul tema del castello stanno iniziando a perdere la pazienza ed anche le speranze. Nonostante le continue rassicurazioni da parte del Comune con interventi annunciati come eminenti, la situazione è sotto gli occhi di tutti e tra quattro anni dovrà essere celebrato il quinto centenario della battaglia di Pavia. L'occasione tra l'altro, quando viene messo a posto, quando viene sistemato, sarebbe bello poter ripristinare il vecchio ingresso. C'erano due colonnine all'ingresso dove veniva agganciato un cancello in ferro battuto che c'è tuttora e che è stato buttato in fondo al castello in mezzo all'erba. Quindi sarebbe una bella occasione per mettere a posto l'ingresso come era una volta. Parlo di 50-60 anni fa, però sappiamo che abbiamo anche un quadro che lo riproduce. Speriamo che si cominci quantomeno a sistemare il tetto. Questo qui, questo problema qua, adesso non sappiamo ancora se poi ci dovrà l'ingresso, se si entra in mente delle belle arti o meno, vedremo, vediamo un po'. Però questo è sintomatico della situazione in cui verso il castello, strazionato. Per non parlare poi della strazionata che è alle tue spalle, che è veramente una cosa indegna.